Ciao a tutti, buongiorno, sono Giuseppe Pasqualella e questa è una nuova puntata di questo podcast dedicato alla consapevolezza finanziaria. Nella fabbrica di 24.000 piedi quadrati di brioche pasquier a circa un'ora da Londra, ogni rotolo che esce da giganteschi forni a gas ora costa almeno il 50% in più da produrre. Dal burro alle uova, lo zucchero, la maggior parte delle materie prime che il fornaio francese usa per fare croissant, brioche e pain chocolat erano già aumentati di prezzo con l'aumento delle materie prime nell'ultimo anno. Ma ora l'azienda ha anche le prese con l'aumento delle utenze energetiche. È un doppio smacco per i produttori di cibo e un costo che si fa sentire subito nelle tasche dei consumatori alle prese con una crisi del costo della vita. Lo vediamo tutti i giorni con le nostre utenze. Nel Regno Unito la banca di Inghilterra prevede che l'inflazione raggiungerà un picco di oltre il 13% quest'anno. Un terzo delle famiglie britanniche è destinato a spendere più del 10% del proprio reddito per l'energia. E ora l'aumento dei costi dei generi alimentari sta aumentando la povertà alimentare. Che già ne avevo parlato in un podcast di qualche giorno fa, soprattutto nel mio editoriale, in cui c'era il grande problema della fame nel mondo. E avevo segnalato anche degli ETF molto interessanti, andatevelo ad ascoltare, sui settori dell'agricoltura e soprattutto su quello dei fertilizzanti. I prezzi alimentari mondiali hanno raggiunto un record dall'inizio di quest'anno, quando l'invasione russa e ucraina ha fatto letteralmente morire di fame il mondo. Dei prodotti chiave, tra cui il grano e oli vegetali, soprattutto l'olio di girasoli, molto importante per la cottura. E mentre i costi globali hanno iniziato ad attenuarsi, scendendo verso il quarto mese a luglio, è improbabile che i consumatori ottengano un sollievo. Questo perché i produttori di cibo in Europa sono ora alle prese con i prezzi elevati dell'energia, con scambi di gas, carbone ed elettricità a molti tipi di livelli mondiali. E il peggio, secondo il mio parere, deve ancora arrivare, perché con l'arrivo di giornate invernali, buie e gelide, che aumenteranno inevitabilmente la domanda di energia per il riscaldamento e la produzione energetica. I prezzi del gas di riferimento europeo sono aumentati vertiginosamente dalla guerra in Ucraina. Anche se stiamo vedendo il prezzo del petrolio e del gas che si stanno lentamente ridimensionando, sta di fatto che sono a dei livelli ancora troppo alti rispetto a qualche anno fa. Che si tratti di tostare il caffè o produrre zucchero dalle barbabietole, le aziende finora parlano solo dell'aumento delle materie prime. Io penso che il peggio debba ancora venire con l'aumento dei prezzi dell'energia. Questo inverno cambierà totalmente le regole del gioco e i costi di elaborazione probabilmente aumenteranno. Seth Zucker, il più grande produttore europeo di zucchero e di barbabietole, ha affermato all'inizio di quest'anno che un aumento sostanziale dei costi delle materie prime, dell'energia e soprattutto degli imballaggi, aveva compensato l'aumento dei ricavi nel primo trimestre. Elliot Bakeries, produttore di Kingsmill ad Ellison Brood, ha dichiarato a giugno che l'aumento dei costi di produzione ha continuato ad incidere negativamente sui margini, nonostante le vendite fossero in vantaggio nel terzo trimestre. Tutte queste società hanno trimestrali eccellenti, ma purtroppo le guidance saranno tutte negative per colpa dei costi delle materie prime. Le aziende che trasformano semi di soia, colza e semi di girasole in oli da cucina stanno rallentando la produzione nel Regno Unito e in Europa e stanno spostando la produzione in altre regioni con prezzi energiatici molto più bassi. La lavorazione dei semi oleosi nel Regno Unito e in Europa è scesa del 3% a giugno, livello più basso almeno dal 2019. Le prospettive sono così disastrose che i governi hanno iniziato ad intervenire. La scorsa settimana l'Unione Europea ha approvato un pacchetto di aiuti di 110 milioni di euro, circa 112 milioni di dollari, per sostenere le aziende del settore agricolo che sono state colpite dall'aumento di energie fertilizzanti e altre materie prime a causa della guerra in Ucraina. Altri paesi potrebbero seguire l'esempio, non dimentichiamoci che c'è la Tunisia che sta attuando un piano radicale per i prossimi 3-4 anni, l'India, la Cina, gli stessi Stati Uniti sono usciti con la loro nuova legge sulle energie rinnovabili. Il settore agricolo è stato particolarmente colpito dall'aumento dei prezzi delle energie e di altri costi di produzione causato dall'invasione russa, dell'Ucraina e delle relative sanzioni, soprattutto le relative sanzioni. Le fabbriche alimentari ad alta intensità energetica in tutta Europa potrebbero essere costrette a chiudere se la carenza di gas naturale innescasse il razionamento. La Germania ha già adottato il secondo di un piano di emergenza in tre fasi e il prossimo potrebbe innescare arresti in tutti i settori. Il Regno Unito ha anche un piano che prevede la riduzione o il taglio delle forniture alle fabbriche. Tali scenari peggiori potrebbero comportare costi alimentari ancora più elevati. I costi alimentari nel Regno Unito hanno avuto il loro maggiore aumento dal 2009, mentre nella parte orientale di Londra, Tait & Light Sugars, sta lavorando duramente per garantire che possa continuare a rifornire clienti ogni giorno dalla sua raffineria di Silver Town sul Tamigi. Proprio come le persone sono alle prese con il budget della propria casa, noi dobbiamo gestire l'energia altamente volatile e i costi di produzione, assicurandoci che ogni centesimo che la nostra azienda spende e ottiene man mano che il reddito viene gestito attivamente in tempo reale. Queste sono le parole del CEO di National Grid in Europa, una delle più grosse utility al mondo. E intanto, come se non bastasse, la Norvegia si sta preparando a limitare le esportazioni di energia, un primo segnale delle prove che la solidarietà trasfrontaliera dell'Europa dovrà affrontare questo inverno con l'intensificarsi della crisi energetica. Come detto più volte, come ho detto io più volte, la globalizzazione sta morendo. La Norvegia ottiene quasi tutta la sua elettricità dalle sue vaste risorse idroelettriche. Storicamente è stata in grado di esportare un forte surplus e ancora a prezzi più bassi in Europa. Ma dopo la primavera secca, i serbatoi idroelettrici nell'area più colpita sono tornati ai livelli di 20 anni fa. La Norvegia ora ha meno acqua nei bacini idrici rispetto alle precedenti previsioni dell'autorità indicate per l'inizio dell'autunno. I mercati finanziari salgono scommettendo che i tagli di interesse della Fed e della BCE, soprattutto della Fed, torneranno presto, già a partire dal secondo trimestre del 2023. Io mi chiedo, ma di tutte le criticità che hanno spinto i mercati a ribasso nel primo trimestre, qualcuna si è risolta, approvvigionamento, guerra, inflazione, qualcuna di queste criticità si è risolta? No, l'unico macro cambiamento è stato l'aumento dei tassi che storicamente porta ad un abbassamento dell'economia reale. L'aumento dei tassi di interesse spinge, insieme all'aumento delle materie prime, i consumatori a comprare sempre meno. Si parla tanto del mercato di lavoro che è saldo, solido e in buona salute, ma soltanto ieri ho letto che l'ennesima società, e di preciso la 104esima delle 500 dello Standard & Poor's 500, le 500 più grosse del mondo, ha tagliato il 10% della sua forza lavoro. Stiamo parlando fino ad ora di 1.100.000 persone che rimarranno senza lavoro dal primo di ottobre. Il mercato di lavoro, il mercato finanziario sta scontando il fatto che 1.100.000 persone rimarranno senza lavoro dal primo di ottobre? A questo punto penso proprio di no. Quindi quello che sta succedendo quest'estate, con questo rimbalzo del mercato finanziario, che cos'è di preciso? Ancora noi non lo sappiamo perché l'unica cosa che non si può prevedere è il futuro. Però una cosa è certa, la situazione può andare soltanto su due strade, e non è una frase fatta, ma è realmente così. O il mercato finanziario se ne sbatterà altamente di quello che sta succedendo nel mondo con tutte queste criticità e continuerà a salire fino ai massimi storici, oppure, come penso io, il problema più grosso dovrà ancora arrivare e molto probabilmente entraremo in una recessione. Che tecnica già lo è, con i due PIL degli ultimi due trimestri in negativo soprattutto negli Stati Uniti. Quindi il mio consiglio è sempre quello di tenere gli occhi aperti, e non mi pare che tutto si sia risolto. Se avete dubbi o domande potete scrivermi a giuseppe.pascharella.pascaprofit.com Vi auguro una meravigliosa giornata e ci sentiamo domani. Ciao ciao!